In via del Palladio ci sono delle sistemazioni veramente strepitose, come è il caso di questa tavernetta abbinata al nostro appartamento numero 4, che è veramente sorprendente. Andiamola a visitare. Quello che mi ha colpito sin da subito è stata la luminosità, molto 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 luminosa. Due bocchie di lupo a tutta altezza che riescono a dare al locale quella luminosità del soggiorno classico al piano terra. Devo dire, è veramente sorprendente, ma anche la visibilità e la grandezza di questa tavernetta che si presta a molteplici usi, con gli amici, in famiglia, come studio. Abbiamo previsto da questa zona anche un'angolocoltura, induzione rigorosamente, e non poteva mancare anche l'attacco per il cammino su Fapallet. Quindi, devo dire, una tavernetta pazzesca, veramente bellissima. Per finire, non so se si vede bene perché siamo un po' in penombra, il nostro bagno. Quello qui, molto molto ampio. Per finire, portoncino blindato, sia sopra che sotto. E qui, manuscala, quindi si sale sopra e si va nell'abitazione. Veramente, veramente bellissima, bellissima. Tavernetta pazzesca. Questa è il neandis immobiliare appartamenti dal 1970, quindi sono 50 anni che costruiamo solide realtà. Grazie.